ciao a tutti e bentrovati quello di oggi è un caso noto molto noto possiamo tranquillamente dire che è diventato una leggenda ci sono diverse trasposizioni cinematografiche sono stati fatti dei documentari arriverà a citarlo addirittura agatha christie ma è talmente affascinante per mille ragioni che non sono riuscita a trattenermi dall'entrarci e immergermi del tutto nella sua atmosfera e ora provo a raccontarvelo magari qualcuno non lo conosce ancora o ne ignori i dettagli che andremo a esaminare o semplicemente ha voglia di percorrere con me questa intrigante vicenda ancora una volta vorrei fare una premessa pur avendo consultato tante fonti alcuni testi originali dell'epoca gli atti del processo ci sono dei dati che restano discordanti non sono cose fondamentali ai fini della vicenda una data un nome un numero cose così è giusto però che lo sappiate perché potreste imbattervi in qualcosa di diverso da quello che sentirete ma essendo fatti successi tanto tanto tempo fa probabilmente nessuno sa quali siano i dati corretti andiamo dunque come detto andiamo lontano nel tempo per parlare della tragica vicenda di lizzie borden e della sua famiglia dobbiamo far fare al calendario un salto all'indietro di oltre 130 anni e arrivare al 1892 mentre il luogo è un'incantevole zona degli stati uniti il new england e più precisamente siamo a fall river nello stato del massachusetts a un solo isolato dal centro di fall river al 92 della seconda strada in un quartiere modesto rispetto alla zona ricca chiamata the hill si è stabilita una coppia di coniugi andrew e abby borden la loro è una semplice casa telaio di due piani e mezzo senza illuminazione a gas e senza acqua corrente condizione non così rara ma che riguardava i livelli più bassi della società ma andrew borden è un uomo d'affari locale piuttosto noto di discendenza inglese e gallese suo padre abram aveva venduto pesce per le strade di fall river e lui era cresciuto affrontando delle difficoltà a livello economico ma che aveva sconfitto ritagliandosi un'ottima posizione sia in ambito commerciale che in quello finanziario arrivando pensate a mettere insieme un patrimonio che ora sarebbe stimato sui 10 milioni di dollari ma nonostante questa disponibilità a lui piace condurre una vita diciamo così frugale oggi con un termine più attuale probabilmente lo definiremmo un tirchio con lui vivono la seconda moglie abby e le due figlie lizzie e emma entrambe adulte entrambe non sposate cosa piuttosto inusuale a quel tempo emma ha 41 anni ed è la maggiore a 9 anni più della sorella lizzie che ne ha 32 all'epoca dei fatti la loro mamma sarah muore nel 1863 ha nemmeno 40 anni quando lizzie ne ha solo tre e emma 12 il 6 giugno del 1865 due anni dopo la morte di sarah andrew borden si risposa con abby del free gray ho detto all'epoca dei fatti ma quali sono questi fatti è la tarda mattinata del 4 agosto del 1892 lizzie si affaccia sulla porta di servizio della casa e chiama la vicina adelaide churchill che è appena tornata dal mercato le dice che suo padre è stato ucciso mentre lei era nella stalla adelaide churchill entra in casa borden e l'orrore è lì sul divano di mogano del soggiorno il capo famiglia è disteso parzialmente girato sul fianchio destro con addosso una vestaglia e i piedi poggiati sul tappeto colpito a morte la sua faccia non esiste più il suo carnefice l'ha colpito ripetutamente spaccandogli in due un occhio e fracassandogli il cranio in casa c'è anche la domestica bridge sullivan che tutti chiamano maggie immigrata irlandese e al servizio della famiglia borden da 25 anni era stata mandata da lizzie appena aveva scoperto il corpo del padre a chiamare il dottor bowen il medico di famiglia che abita dall'altro lato della strada lui però non c'era era in giro per visite quindi maggie era tornata sola quando la vicina la signora adelaide entra chiamata da lizzie quest'ultima sta dicendo alla domestica di andare a cercare un altro medico il dottor kelly che abita un paio di case più in là ma è proprio in quel momento che arriva il dottor bowen che aveva visto il trambusto in strada e poi la moglie gli aveva detto di correre in casa borden perché doveva essere successo qualcosa di terribile il medico dopo essersi ripreso dallo shock fa una prima valutazione del corpo di andrew e stabilisce che è appena stato ucciso il sangue infatti è ancora caldo e molto liquido e continua a sgorgare leggermente dalle ferite poi chiede a lizzie di procurargli delle lenzuola per avvolgere il corpo lei non le va a prendere nelle camere da letto di sopra ma da qualche parte lì al piano terra il dottor bowen quindi chiede dove sia la moglie del funto abby e lì si risponde di non sapere se è rientrata o meno allora la domestica maggie e la vicina si mettono a cercarla salgono le scale di legno e quando con gli occhi arrivano a livello del pavimento del piano superiore scoprono che l'orrore non è ancora finito nella stanza degli ospiti abby giace a faccia in giù con la parte posteriore del cranio completamente devastata il dottor bowen controlla anche il corpo di abby e vede che a differenza di andrew il suo sangue è già scuro e semi coagulato e il corpo ha già iniziato a raffreddarsi valuta che la sua morte risalga all'incirca alle 9 e 30 un paio di ore prima il city marshal rufus hilliard è seduto nel suo ufficio della stazione di polizia centrale quando riceve la telefonata da john cunningham chiama da un negozio vicino all'abitazione di borden e dalla notizia sul posto viene mandato l'agente george allen sono le 11 e 15 ed è il primo poliziotto a entrare nella scena del crimine la casa è in perfetto ordine chi aveva agito l'aveva fatto con precisione accuratezza e incredibile sangue freddo allen sgomento piazza l'agente sawyer davanti alla porta di casa gli dà istruzioni di non fare entrare nessuno a eccezione di medici e poliziotti e poi torna alla stazione di polizia a fare rapporto tutti gli uomini disponibili vengono mandati sulla scena del crimine che però sono pochi perché quel giorno si tiene la tradizionale escursione del corpo a rocky point una località costiera vicino providence il capo della polizia riesce a metterne insieme una mezza dozzina che nel giro di mezz'ora si porta a casa borden per perlustrarla minuziosamente è una giornata d'estate particolarmente calda siamo nelle ore centrali e il sole è cocente ma nonostante ciò una folla comincia a radunarsi in strada bloccandola del tutto ognuno dice la sua teorizza specula eppure nonostante la seconda strada sia adiacente all'arteria principale di fall river caratterizzata da tantissimo passaggio nessuno ha visto o sentito qualcosa di utile alle 11 45 arriva il medico legale il dottor dolan conferisce brevemente con il dottor bowen e inizia a predisporre tutto per eseguire le autopsie lì in loco siamo alla fine dell'ottocento intanto l'agente flitt parla con lizzie lei riferisce che un ragazzino quel mattino aveva portato un biglietto alla matrigna ebby sul quale c'era scritto che un caro amico era molto malato e che era richiesta la presenza della donna ma non sa dire chi sia questo amico alla domanda se le viene in mente qualcuno che potesse avercela con il padre lei dice che qualche giorno prima lo aveva visto discutere violentemente con un uomo forse un bracciante davanti alla porta di casa un'altra informazione che da lizzie è che qualche giorno prima tutta la famiglia era stata male in seguito al consumo di latte e lei aveva temuto che fosse stato volontariamente alterato da qualcuno flitt riporta ogni cosa al suo capo rufus hilliard intanto viene accertato che le due porte principali dell'abitazione quella fronte strada e quella posteriore sono chiuse a chiave dall'interno abitudine consolidata dopo un recente furto quindi l'unica porta accessibile all'assassino era quella laterale la stessa da dove si era affacciata lizzie per chiamare la vicina si cerca di ricostruire cose accaduto nelle ore antecedenti la macabra scoperta emma la sorella maggiore in quei giorni fuori città i resoconti ufficiali riferiscono che fosse in visita presso alcuni amici a fair haven ma vengono anche riportate delle voci secondo cui avrebbe avuto una liaison segreta con un uomo di rango inferiore e con il quale avrebbe voluto sposarsi ad ogni modo viene avvisata con un telegramma di tornare immediatamente a casa e arriva verso le 18 del giorno stesso la notte precedente in casa borden avevano dormito cinque persone i coniugi borden maggie la domestica lizzie e lo zio materno john morse costui è il fratello della defunta sarah e pare che in passato fosse stato l'unico vero amico di andrew borden al punto che stavano per mettersi in affari insieme ma poi john aveva deciso di trasferirsi prima in illinois e poi in iowa dove per 25 anni si dedicherà all'allevamento di cavalli arriva in città il pomeriggio prima del giorno del massacro per far visita alla famiglia ma anche a un'altra parente la signora emery che abita al 4 di way bosset street a circa un chilometro e mezzo di distanza gli viene assegnata la camera degli ospiti quella dove verrà ritrovato il corpo di abby il mattino successivo esce di casa poco prima delle nove dopo aver fatto colazione e una chiacchierata di quasi un'ora col cognato andrew si incammina per andare a far visita all'altra parente in città e conta di tornare per pranzo anche il capofamiglia esce poco dopo per andare in banca e in posta dove deve tra l'altro spedire alcune lettere che le ha dato la figlia lizzie le pulizie in casa quelle quotidiane normalmente competono alle sorelle emma e lizzie ma quel giorno abby che per qualche motivo sconosciuto sale al secondo piano per riordinare la stanza degli ospiti dove ha dormito proprio john alle 10 45 andrew il capofamiglia fa ritorno a casa e quando cerca di aprire la porta con la sua chiave non ci riesce perché si è inceppata la serratura bussa e maggie cerca di aprire ma anche lei fa difficoltà e le scappa una piccola imprecazione e sente lizzie ridacchiare per la cosa come d'abitudine andrew si butta sul divano dopo che maggie come dirà lei stessa gli ha sfilato gli stivali e si appresta a fare il solito riposino ma prima chiede a lizzie dove sia ebby la moglie e lei riferisce del biglietto portato dal ragazzino poco dopo maggie la domestica è al terzo piano della casa a pulire i vetri e sente la voce di lizzie che la chiama gli dice di scendere velocemente perché il padre era morto qualcuno è entrato l'ha ucciso dice poi la manda a chiamare il dottor bowen e avvisa la vicina e torniamo così al medico legale che stava predisponendo l'autopsia dei corpi la esegue nel primo pomeriggio sul tavolo del soggiorno di casa borden a andrew borden sono stati inflitti 13 violenti colpi tutti concentrati sulla zona della testa l'arma del delitto doveva avere una lama molto affilata e essere lunga circa 13 centimetri gli era stato spaccato un occhio e distrutta la mascella i colpi riservati alla signora ebby sono 19 18 alla testa e uno tra le scapole l'arma era affondata per oltre 10 centimetri il contenuto dello stomaco viene prelevato per essere analizzato sia per verificare quanto riportato rispetto al latte avvelenato sia per trovare conferma sulla base dell'avanzamento della digestione di chi fosse stato ucciso per prima terminato il lavoro del medico legale i corpi vengono affidati al signor wingward il vecchino della città due giorni dopo il 6 agosto si eseguono le esegue dei coniugi borden i loro corpi vengono deposti su due bare coperte da della stoffa nera su quello dell'uomo viene adagiata una corona di edera mentre su quella della moglie un mazzo di rose bianche e foglie di felce viene tenuta una cerimonia privata in casa con pochissimi partecipanti ammessi nonostante fuori almeno 3-4 mila persone si accalchino nella speranza di vedere qualcosa una volta terminato il rito ufficiato dal reverendo buck le bare vengono portate fuori a spalla emma e lizzi escono senza velo e lo zio john è l'ultimo a lasciare l'abitazione il corteo è composto di 12 carrozze più due carri funebri che percorrono lenti tutta la città fino all'estremità settentrionale dove si trova il cimitero di oak grove lì il reverendo buck legge alcuni passi del nuovo testamento e il dottor bowen fa un intervento le bare però non vengono tumulate perché da boston era arrivato un telegramma che imponeva di bloccare la sepoltura vengono quindi ricaricate sul carro funebre e portate in obitorio intanto la polizia cerca di districarsi tra i fatti oggettivi le versioni contrastanti le voci di corridoio mentre le sorelle borden mettono una taglia una ricompensa di 5.000 dollari che per l'epoca erano parecchi soldi per chi avesse dato informazioni determinanti per la cattura dell'assassino l'ipotesi di un'intrusione dall'esterno era già stata esclusa era impensabile che qualcuno fosse entrato o uscito dalla casa magari ricoperto di sangue senza essere notato i vicini erano tutte a con le finestre aperte o si stavano affaccendando nei cortili per non parlare dei numerosi passanti inevitabilmente gli investigatori rivolgono la loro attenzione agli occupanti della casa movente e opportunità chi li aveva avuti entrambi vediamo di fare un po di luce su questa famiglia apparentemente ordinaria come detto dopo la morte della prima moglie andrew prende in sposa ebbi con lizzi molto piccola e emma alle soglie dell'adolescenza la quale assume un ruolo materno nei confronti della sorellina lizzi crescerà senza avere memoria alcuna della madre biologica a entrambe le ragazze viene data un'educazione religiosa ed è soprattutto lizzi a diventare parte attiva nella central congregational church partecipa alle attività e la domenica insegna ai figli degli migranti approdati in zona lizzi frequenta la scuola pubblica a una cerchia di amici molto ristretta e pare non aver nessun desiderio di allargarla i compagni di classe la ritengono eccentrica e dal carattere piuttosto riservato nel 1890 si unisce a un gruppo di donne e con loro viaggia in europa mentre emma non uscirà mai dal new england ma più le sorelle crescono e più i rapporti in casa si fanno tesi emma e lizzi sono sempre più convinte che abby abbia scelto di sposare andrew solo per puntare alla sua ricchezza e non la chiameranno mai mamma nemmeno per nome la chiameranno ma si rivolgeranno a lei come mrs borden e non mangeranno mai a tavola insieme ma chi vive peggio la situazione è lizzi perché emma è più accomodante tutto sommato è soddisfatta della vita che conduce certo non disdognerebbe una casa più confortevole e qualche soldo in più ma in un modo o nell'altro se la fa andare bene mentre la sorella minore è requieta vorrebbe abitare nel quartiere ricco della città e potersi permettere molto di più nella vita ed è proprio su di lei che si concentrano le attenzioni della polizia movente e opportunità emergono poi altri elementi negli ultimi mesi la tensione in casa borden aveva toccato il punto più alto quando il capo famiglia era intervenuto per salvare la situazione economica di alcuni parenti di abby e nello specifico aveva acquistato una proprietà da donare al fratellastro della moglie dopo averla intestata a lei le sorelle in cambio avevano preteso di avere la proprietà della fattoria di ferry street dove erano nate e dove avevano vissuto fino alla morte della madre biologica la casa aveva due inquilini in affitto ma era vecchia e necessitava di continuo di costosa manutenzione e così le sorelle non essendo in grado di mantenerla sono state costrette poi a rivenderla al padre le tensioni crescono così tanto che emma e lizzi a luglio di quell'anno decidono di allontanarsi da casa per un po e passare del tempo a new bedford una località balneare dello stato a loro ritorno lizzi decide di restare per alcuni giorni in una pensione della città e fa ritorno a casa solo quattro giorni prima dell'assassinio allo zio john morse viene chiesto di fermarsi a casa borden sia per aiutarli a derimere quelle fastidiose controversie finanziarie ma anche per assisterli in seguito alla brutta infezione contratta dalla famiglia forse a causa di quel latte alterato di cui parlavamo la notte dopo la tragedia un'amica di emma e lizzi ellis russell si ferma a dormire con loro mentre lo zio john passa la notte in un'altra stanza degli ospiti in soffitta la sera del 5 agosto il giorno dopo il duplice omicidio lizzi scopre di essere entrata nel mirino degli inquirenti e il giorno successivo è quello dei funerali quello stesso giorno l'amica ellis russell sorprende lizzi in cucina a bruciare un vestito sul fornello quando gliene chiede conto lei risponde che si era macchiato di vernice e che quindi era diventato inutilizzabile ma a proposito di macchie risuona forte nell'aria la domanda se lizzi aveva avuto un ruolo nella mattanza perché non era ricoperta di sangue il metodo violentissimo con cui erano state uccise le vittime era garanzia di un copioso spargimento di liquido ematico eppure sia la vicina che la domestica riferiscono che su lizzi non ce n'era traccia e aveva indosso lo stesso abito del mattino e comunque ammesso che quel vestito bruciato fosse stato sporco di sangue lei non ne aveva nemmeno sul viso sulle mani sui capelli vi ricordo in una casa senza acqua corrente dalla perquisizione fatta l'abitazione l'unica minuscola traccia di sangue era stata riscontrata sulla sottoveste di un abito riposto nel cesto della biancheria che doveva essere lavato l'abito edilizi ma lei si giustifica dicendo di avere il ciclo mestruale oggi basterebbero cinque minuti per stabilire se era la verità o se quel sangue arrivava da uno dei corpi delle vittime in cantina viene ritrovata quella che probabilmente è l'arma del delitto un'ascia dal manico rotto in realtà ce ne sono tre di asce e laggiù ma due sembrano giacere lì da molto tempo mentre la terza è come se fosse stata bagnata quindi forse lavata e poi immersa nella cenere la misura della lama è compatibile con le ferite inferte e alcune prove pratiche stabiliscono che l'arma poteva essere agilmente maneggiata anche da una donna e poi emerge qualcos'altro il dottor bowen aveva confermato che nei giorni antecedenti la tragedia tutti i componenti della famiglia erano stati male e avevano avuto sintomi da avvelenamento come aveva asserito la stessa lizi per provare a far luce rispetto a questa storia il capo della polizia manda un paio di agenti a fare qualche domanda presso le farmacie della città sperando di risalire a qualcuno che avesse acquistato del veleno e quando arrivano a quella del dottor smith all'incrocio tra la maine e la columbia street fanno una scoperta agghiacciante il commesso eli bens riferisce che il mercoledì prima degli omicidi una giovane donna aveva provato ad acquistare dell'acido cianitrico un potentissimo veleno che agisce fermando il cuore dicendo che doveva uccidere le tarme presenti nei suoi mantelli di pelle di foca lui però senza ricetta medica si era rifiutato di venderglielo tanto più che non aveva mai sentito parlare di tale utilizzo è buio quando il commesso viene portato dagli agenti davanti casa borden attendono che lizi esca e poi lui dice sì è lei è lei che mi ha chiesto il veleno insomma la teoria è li voleva avvelenare ma non essendoci riuscita ha spaccato loro la testa a questo aggiungiamo un comportamento di lizi dopo la tragedia ha giudicato fastidioso praticamente da tutti lei infatti risulta essere calma estremamente controllata ma dipende dal fatto che lei l'assassina o dalla dose di morfina che le hanno iniettato perché non si agitasse ci sono anche delle contraddizioni di cui tener conto da parte sua prima dice che stava leggendo una rivista in cucina poi che stava stirando in soggiorno che non aveva sentito nulla di strano ma poi che aveva sentito un tonfo maggie la domestica mentre il padre cercava di farsi aprire per la sedatura inceppata dice di averla sentita ridere da sopra le scale ma lizi nega di essere salita e a proposito di maggie perché ha detto di aver tolto gli stivali al padrone di casa se poi dalle foto della scena del crimine si evince il contrario lui da morto gli stivali ce li ha su poi se tra la morte di andrew e quella di ebby erano passate tra una e due ore come mai nessuno aveva visto il corpo di del signor borden sul divano la polizia nei giorni successivi alla strage si era mossa in varie direzioni era andata fino nel somerset per interrogare un sospetto che però aveva un alibi più che solido e alla fine per esclusione senza avere proprie prove in mano solo con indizi e possibilità arrivano a un'unica conclusione nessun altro poteva essere stato così alle 16 20 del giorno 11 agosto una settimana dopo gli omicidi lizi borden viene arrestata viene immediatamente mandato a chiamare l'avvocato jennings che le sorelle borden avevano già contattato nei giorni precedenti per tutelare i loro interessi il procuratore distrittuale chiede che lizi rimanga in custodia in attesa di processo e il giudice blais del accoglie la mozione non essendo prevista la scarcerazione su cauzione in caso di omicidio di primo grado il giorno dopo il 12 agosto lizi viene scortata in treno a towton dove c'è la prigione che l'accoglierà la voce si sparge in fretta a ogni stazione dove ferma il treno la folla si accalca tutti vogliono vederla essere in qualche modo parte degli eventi lei con abito e velo blu siede nello scompartimento con le tendine abbassate oltre agli uomini di legge c'è con lei il reverendo buck la sezione femminile del carcere di towton prevede solo nove celle delle quali cinque sono già occupate da detenute condannate per reati minori le altre di solito vengono mandate nella prigione di new bedford hilliard il capo della polizia affida la prigioniera alle guardie del carcere al pastore buck è concesso di restare ancora un po con lei e poi la lascia anche lui lizi dirà era calma era assegnata la sezione femminile è diretta dalla moglie del sindaco di towton and your right la famiglia right in passato aveva vissuto a fall river e gli occhi della signora right si inumidiscono di lacrime quando riconosce in lizi la bambina che un tempo giocava con sua figlia isabel la cella è minuscola due metri per tre circa e dentro ci sono un letto una sedia e un catino mentre lizi con te minuti passare in quello spazio angusto fuori c'è un gran fermento il sentire generale è che una ragazza così per bene che non ha mai dato segni di squilibrio che conduceva una vita normalissima senza alcuna macchia non poteva aver compiuto un'azione così terrificante e fin dai pulpiti durante la messa si prega per lei anche emma crede alla sua innocenza e le resta accanto va regolarmente a trovarla in carcere con il reverendo buck e l'avvocato jennix poi come l'erba cattiva spuntano ovunque diverse teorie che ci fosse la mente di emma dietro la mano armata di lizi o che fosse tornata da fereva in nottetempo per uccidere padre e matrigna e poi tornare lì in attesa del telegramma che l'avrebbe avvisata della tragedia un'altra ipotesi si spinge a disegnare un rapporto incestuoso tra lizi e lo zio e che insieme avessero messo in atto quel massacro diversi testimoni scaggioreranno john morse per averlo visto in città esattamente nel momento delle uccisioni ma anche questo fatto per qualcuno era fin troppo artefatto e calcolato spunta addirittura un figlio legittimo di andrew borden insomma mille congetture verosimili o fantasiose ma a processo accusata di duplice omicidio ci va lizi borden dieci giorni dopo il suo arrivo alla prigione di toton il 22 agosto si tiene l'udienza preliminare e il giudice blaisdell ritiene che lizi sia processabile per l'accusa a lei a scritta il 7 novembre il gran giuri inizia a sentire i testimoni e il 2 dicembre emette un formale atto d'accusa nei confronti di vizi borden per duplice omicidio di primo grado il processo si tiene nella superior cart di new bedford massachusetts e si apre il 5 giugno del 1893 dieci mesi dopo la tragedia quel giorno arriva in città una marea di gente e i giornalisti fanno letteralmente la fila per ritagliarsi un posto in quella vicenda considerata il processo del secolo e in questi giorni accade qualcosa di davvero bizzarro perché il primo giugno quattro giorni prima dell'apertura del processo a riverfall la polizia si precipita a casa di bertha manchester perché la donna è stata trovata morta in cucina finita a colpi di ascia i giurati fanno in tempo a venire a conoscenza della notizia e ovviamente notano le similitudini tra i casi anche se poi l'anno seguente nel 1894 un immigrata portoghese verrà arrestata in correlazione a quel fatto e verrà anche stabilito che non poteva aver avuto nessun ruolo nei fatti occorsi ai borden ma i giurati ancora non lo sanno lizzi è difesa dall'avvocato di famiglia andrew jennings e dall'ex governatore del massachusetts george robinson la pubblica accusa è rappresentata dal procuratore distrittuale knolton assistito dall'avvocato thomas moody il quale con non curanza durante il discorso di apertura poggia sul tavolo i teschi massacrati delle vittime poi dimostra alla giuria quei colpi dice rivelano un movente personale rabbia repressa a lungo lizzi a un mancamento la giuria è composta da 12 uomini sì perché fino al 1952 in massachusetts le donne non potevano ricoprire quel ruolo e a proposito di questo si rileva che l'interesse del pubblico riguardava soprattutto la parte femminile della popolazione perché ancor più dell'efferratezza dell'omicidio nel sentire collettivo faceva scalpore il fatto che potesse averlo messo in atto una donna la cui condizione all'epoca era relegata a ruoli sempre dipendenti da figure maschile se davvero era stata lizzi lei incarnava la ribellione del genere la rottura dei limiti imposti in quel periodo storico ed è uno dei temi principali del processo ovvero una donna può avere sufficiente aggressività sangue freddo cinismo per arrivare a fare tutto ciò sì insomma da un uomo ce lo si può anche aspettare ma da una donna proprio no e a doverlo stabilire sono solo uomini la questione invece prettamente pratica che più viene dibattuta durante il processo riguarda l'assenza di sangue addosso lizzi e l'abito bruciato su fornello riguardo al quale emma chiamata a testimoniare in proposito riferirà di essere stata lei a dire alla sorella di farlo che era semplicemente una cosa che andava fatta un giorno valeva l'altro e poi e poi c'è un'altra questione interessante che viene calata sul tavolo come mai sono intercorse ben due ore tra il primo e secondo omicidio se fossero stati più ravvicinati gli omicidi non sarebbe stato possibile accertare senza dubbi l'ordine delle morti e questo ai fini dell'eredità fa un'enorme differenza già perché se andrew fosse morto prima della moglie lei sarebbe stata la sua erede e i suoi beni poi sarebbero passati ai suoi di eredi invece essendo lei già deceduta alla morte del marito le uniche erede universali diventano lizzi e emma ai giurati viene impedito di essere messi a conoscenza del tentativo di acquisto dell'acido prussico da parte di lizzi in quanto ritenuto fatto pregiudizievole discutibile voi che ne dite ad ogni modo il processo dura tre settimane lizzi non viene mai chiamata sul banco dei testimoni assiste silenziosa e composta e le uniche parole che dirà alla fine delle testimonianze saranno sono innocente lascio che sia il mio avvocato a parlare per me subito dopo la giuria si ritira in camera di consiglio l'aula è gremita i corridoi straripano di gente meno di due ore dopo la giuria esce il portavoce pare addirittura eccitato sembra quasi non veda l'ora di dirlo e lo dice subito not guilty non colpevole lizzi crolla si accascia e appoggia la testa sulla ringhiera come se qualcuno le avesse sparato intanto la folla applaude urla si scatena poi emma riesce a raggiungere la sorella la braccia e lei le dice portami a casa lizzi e emma restano a vivere a fall river ma non appena intascano i 350 mila dollari dell'eredità circa 10 milioni attuali lasciano la casa angusta e priva di comfort e si trasferiscono finalmente dove avevano sempre desiderato vivere a the hill il quartiere ricco della città acquistano una casa molto grande con tanto di servitù che include un maggiordomo e un cocchiere da quel momento lizzi si fa chiamare lisbeth e chiama la sua casa maple croft nonostante i tanti applausi scroscianti che si erano sentiti alla lettura del verdetto gli abitanti di fall river cominciano a chiedersi ma se non era stata lei chi altri poteva essere stato e così piano piano finiscono con l'isolarla anche la chiesa dentro la quale aveva avuto un ruolo importante l'allontana e le viene detto che la sua non è più una presenza gradita nel 1997 a providence nel road island lisbeth viene accusata di taccheggio e il suo nome torna prepotentemente alla ribalta anche la sorella emma 12 anni dopo l'assoluzione nel 1905 le volta le spalle se ne va di casa e recide tutti i legami con lei avviene in occasione di una violenta discussione alla fine di un party che lisbeth aveva organizzato a maple croft per un'attrice ma pare che emma già da un po non si sentisse più a suo agio con la sorella nel 1926 alizi viene rimossa la cistifellea e questo la porta a vivere in cattive condizioni di salute per circa un anno e infine muore di polmonite il primo giugno del 1927 poco prima di compiere 67 anni muore sola in compagnia solo dei suoi cani la cosa incredibile è che emma stabilita sino al new hamshire muore solo nove giorni dopo la sorella come se la vita dell'una anche a distanza dipendesse dalla vita dell'altra l'eredità stimata in valore attuale a quasi sei milioni di dollari sarà suddivisa tra beneficenza lasciati a parenti amici e una quota consistente viene devoluta alla cura perpetua della tomba del padre andrew borne e entrambe le sorelle vengono sepolte nel cimitero di famiglia a oak grove una a fianco all'altra di recente la casa teatro degli omicidi è stata venduta per quasi due milioni di dollari e oggi è un bed and breakfast è stata ristrutturata mantenendo lo stile dell'epoca e all'interno insieme all'arredamento in tutto e per tutto simile a quello di allora ci sono le foto della tragedia e non solo ci sono anche i calchi dei teschi massacrati di andrew e abby borne voi che fareste ci dormireste là dentro con questo video ho concluso vi ringrazio per il vostro tempo e spero di ritrovarvi anche al prossimo video ciao e grazie